In Italia arriveranno questi casino online, Jonathan La Torre appunto di Evolution Gaming, che cosa pensa del settore italiano? Allora, il settore italiano è assolutamente, rimane il primo mercato per quanto riguarda l'e-gaming in Europa. Evolution Gaming ha investito nel settore italiano perché abbiamo passato il processo di certificazione, avremo una sede romana e cercheremo di seguire i nostri clienti anche nel mercato italiano, quindi assolutamente ci crediamo. Io mi auguro, e qua lo dico la telecamera così rimane, che il 18 luglio sia effettivamente la data in cui i primi frutti di tutto quello che abbiamo fatto fino ad adesso si cominciano a vedere, non soltanto per Evolution Gaming, ma anche e soprattutto per i nostri clienti principali, i nostri partner che sono gli operatori. Ecco, avete già un'idea dei numeri, vi siete fatti? Allora, assolutamente. Io penso che i forecast e i re-forecast che abbiamo fatto per le partenze del mercato italiano siano tantissimi. Ti dico l'ultimo numero che io stesso insieme a dei consulenti eccetera avevamo provato ad ipotizzare, però ipotizzando una partenza a giugno, perché non so se vi ricordate che all'inizio si parlava di giugno, noi pensavamo a un turnover di scommesse sui 3 miliardi. Ora, giugno non si parte, si parterà il 18 luglio e bisogna capire quanti operatori riusciranno a partire il 18 luglio. Secondo il mio modestissimo parere, molto umilmente, penso che ci sarà comunque un grossissimo boost a partire da settembre. Dicembre sarà assolutamente un picco, soprattutto per i giochi di casino, quindi io mi auguro che il fatto di aver perso un mese, voglia dire soltanto 500-600 milioni in meno e che si possa comunque superare i 2 miliardi di fatturato sul gaming. Ecco, vi sentite penalizzati dal fatto che le slot machine non siano contemplate nel pacchetto d'offerta per i casino online in Italia? Allora, rispondendo in maniera puntuale alla tua domanda, non mi sento assolutamente penalizzato, anzi penso che in un mercato di casino senza la parte delle slot machine, il live abbia ancora più importanza perché diventa uno dei pochi modi di differenziazione. Detto questo capisco sia diciamo gli operatori terrestri che hanno investito tantissimo e hanno appena finito di investire sulle slot machine fisiche che hanno una paura di cannibalizzazione, sia però capisco che senza un'offerta uguale a quella del dot com ancora non si riesce a combattere, a far emergere il gioco illegale e quindi far diventare il gioco illegale e illegale. Quindi fino a quando ci sarà una disparità, questo comunque, ma penso che stamattina è stato detto anche al convegno, questo comunque porterà ancora del gioco illegale. D'altra parte mi sento, ma qua ancora molto umilmente non sono un operatore, ma mi sento soltanto di dare un consiglio agli operatori fisici che secondo me stiamo parlando di un target completamente diverso. Il fruitore delle VLTs nella parte fisica, nella parte a terra, secondo me è assolutamente diverso da quello che invece gioca online, magari ha dei giochi simili, si chiamavano giochi a rullo, che fa ridere come definizione, ma io penso che si tratti esattamente di cose diverse, però capisco che bisogna contemperare le esigenze.